Le nuove tecnologie non solo stanno migliorando i nostri modi di comunicare, ma stanno anche riducendone i costi. Oggi bastano 29 euro al mese per entrare nel mondo Team Smart. Internet veloce dentro e fuori casa, chiamate da fisso e da mobile. E in più Team Vision sempre incluso. Questo vuol dire essere sempre connessi, esprimerci come e quando vogliamo e avere tutto in un'unica soluzione. Che mondo fantastico! Chiama il 187, vieni nei negozi Team o su Team.it in un'unica soluzione.it